Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati con questo canale di BattleforGames, io sono Carlo e oggi ragazzi siamo tornati su Playstation 4 webcam Perché non metti a fuoco? Ok, era un attimino fuori fuoco Comunque ragazzi, siamo tornati su Playstation 4 perché voglio provare la demo di PES 2016 È uscita, ragazzi la proviamo subito come abbiamo fatto con la demo di FIFA Allora, premetto una cosa, volevo fare una partita Juve-Roma, va bene ragazzi, prendiamo la Juve, Juve-Roma, calcio di inizio Premessa, io non ho mai giocato a PES in tutta la mia vita, non è vero, cioè Ho giocato a PES tipo 2008 Quindi si parla di praticamente 5-6 anni fa E sinceramente non mi ricordo neanche mezzo tanto Io spero che i tasti e i comandi siano uguali a quelli di FIFA 15 O comunque i comandi classici di FIFA perché secondo me se no potrebbe essere veramente un grosso problema Comunque ragazzi siamo su PES Eccoci poi i nostri giocatori Buffon, DeSantis, Stotti Ragazzi devo dire che sono fatti veramente molto bene Comunque tra l'altro c'è anche su FIFA 15 C'erano fatti bene anche sulla demo di FIFA 16 Erano veramente fatti molto bene come sempre E ora qua ragazzi vediamo I giocatori che scendono in campo E poi vediamo un po' com'è questo gioco e le differenze magari da FIFA 16 Ok iniziamo la partita perché se no non finisce più Ecco ragazzi siamo partiti Allora il passaggio direi che per ora sia uguale Ecco bene subito Gervini è partito Non lo fermo più nessuno La difficoltà non la so ragazzi L'unica cosa che ho scoperto per ora è che si corre con R1 al posto che con R2 Oddio non mi ricordo neanche più i tasti Ho visto Morata E poi tra l'altro ci sono ancora Attenzione Marchisio Il cross in mezzo E c'è il gol subito Il primo gol di Carletto Tevez Carletto Tevez così subito dopo un secondo Praticamente la difficoltà ragazzi Sicuramente sarà veramente molto bassa Ecco l'esultanza Ho premuto tasse a caso sinceramente Non so come si facciano Quindi va bene così Pogba Tiro lì Grande Pogba 1-2 Grande Ancora Pogba l'ha visto Incredibile il gioco Bruttissimo Si fa prendere la palla così Fallo forse Non è fallo incredibile Giochiamocela Facciamo un po' di passaggini Cos'è sto passaggio di me Oh raga anche sul pass Allora sono io handicappato Che non so fare i passaggi È ufficiale Non è mica possibile Attenzione Terrez Lo provo da lì Bruttissimo Ragazzi se sentite che c'è una voce un po' strana È perché mi sto ammalando Strano Non mi succede mai C'è un raffreddore Mal di gola Quindi Magari Ho la voce un po' strana Spero non troppo Però vabbè ragazzi I falli non esistono su questo gioco Praticamente Prendi la grande Grande Tevez Vedilo No Regà me l'ha presa Nengolan Oh Nengolan col carestone Però ci sta Attenzione Gervinio Grazie Oh no Cos'è sto passaggio di merda Non ci credo Regà È andata bene L'ha visto Tevez fuori gioco Fuori gioco Non ci è arrivato neanche Quindi Quindi per fatto così Esatto Poi era fuori gioco Bello il fuori gioco Così mi piace Che fanno rivedere con la linea Il fuori gioco Su FIFA 15 Non credo ci sia La linea Neanche su 16 Dovrebbero metterla questa cosa Perché è veramente Una cosa fica Attenzione De Santis Vediamo dove rinvia Rinvia lungo E la io La prenderò io Perché me lo sento Cos'è Si è cappottato Regà Si è cappottato Grande Pogba Pogba va via di fisico Vede Morata 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 Non so come si piazzi Il pallonetto Non so come si piazza Regà Ho fatto il pallonetto Ho sbagliato tasto Finito il primo tempo Ragazzi intanto 1-0 Juve Roma Pjanic E gira tutto per Maicon Oddio c'è ancora Maicon Regà Quanto tempo è che non gioca Maicon Oh Buchissimo Buchissimo Non ci credo Regà L'abbiamo preso Nengolan Ma che buco c'era Oh C'era un buco in difesa Allucinante Ci hanno bucato male Ma proprio malissimo Ma malissimo proprio Vabbè regà Non voglio rivederli Guardate che buco c'era Si è inserito veramente Guardate che buco c'era in mezzo Era da solo Nengolan Vabbè E poi vabbè regà Qui non si sa cosa faccia Bonucci Però vabbè Bonucci ha fatto quello che gli pareva lui Praticamente Va a finire che perdiamo eh ragazzi Perché non riesco più a tirare in porta Non riesco più a tirare in porta Attenzione Scivolate Datemi la vocia Dai Tevez Mamma mia Che cosa ha fatto Regà Questo mi è piaciuto Questo mi è piaciuto Di prima Senza neanche stomparla Incredibile Carletto Tevez Quello che non fa Quello che faceva l'anno scorso Ragazzi Credo che ai Juventini Vi mancherà molto Tevez Devo essere sincero Dite che non è vero Però Un po' vi manca Sentite l'astinenza Del vostro caro Carletto Occhio A Mike Conner Oh Oh ma che cazzo fa Gigi Buffon No Non l'ha bloccata Regà Occhio Mamma mia Per fortuna È andata bene Ragazzi Corri Pogba Fatti valere Pogba Attenzione è partito Pogba 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 Ancora lui Lo vede in fascia Forse fuori gioco Forse no Invece no Il cross in mezzo Niente Ancora non ci arriva Ancora Pogba Però Ancora Pogba Lo vede il cross in mezzo Fuori gioco Incredibile Era fuori gioco Ok ragazzi Era fuori gioco Comunque De Santis c'era Di poco Comunque fuori gioco Ragazzi Bella questa Mi piace molto Questo replay Con la linea Comunque De Santis C'era arrivato Lui lancia Lunga attenzione Sbaglia tutto De Santis Sbagliato tutto Mamma mia Regà Ha sbagliato tutto De Santis Ha sbagliato tutto Anche il computer Ha sbagliato tutto E Morata Ne approfitta Ha sbagliato tutto Incredibile Intercetta palla E la butta dentro Anche il computer Ragazzi Mamma mia Che erroraccio Io scivolo a caso Oggi scivolo a caso Totalmente Oggi a fine Non si ferma Occhio Totti Occhio Totti Il passaggio in mezzo Ha sbagliato tutto Incredibile Totti Oddio Rinvii Come si fanno ragazzi Rinvii Ah così Ok Ragazzi Non so come Vi fanno Spazza tutto Bruttissimo Rinvio Gli ha regalato La palla Ma Pomba Forse recupera Conevrà Lo vede Lo vede Niente Intercettato Fuori gioco ancora Mamma mia Quanti fuori gioco In questa partita Di pochissimo Sale bene La difesa della Roma Alla Incredibile Vada solo Morata Vada solo Morata Prova il tiro Non ci credo Ragazzi La presa Tevez La presa Tevez Io non ci credo Ma se si capasse Dalle palle Tevez Era gol Questo Cioè Guardate che la presa Tevez Ha centrato In pieno Tevez Io non ci voglio Credere Guardate Che si mette in mezzo Nel tiro BAM E prende Tevez Che bello Finito ragazzi È finita qui 3 a 1 Per la Juventus Su PES 16 Fatemi sapere nei commenti Cosa ne hai pensato Di questa demo A me sinceramente Piace abbastanza Rispetto a FIFA 16 Però Forse un po' come velocità di gioco Un po' troppo lente Per questo Da questo lato Preferisco FIFA Spero che questo video ragazzi Vi sia piaciuto Fatemi sapere con un commentino Qui sotto Cosa ne pensate Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Con questo ci io vi saluto Ci vediamo Col prossimo video Ciao ragazzi